Grazie a Felice Romano, un saluto a tutti i presenti. Credo che questo congresso nazionale cada in un momento davvero particolare, particolare per il nostro Paese e non solo per il nostro Paese. Se consideriamo il periodo della pandemia, se consideriamo un conflitto bellico non distante dall'Italia e con tutte le conseguenze e con tutto l'impegno che ovviamente ciò comporta per le forze di polizia, a cui va sempre il ringraziamento da parte del Governo. Diciamo che anche nell'ultima finanziaria è stato un ottimo contratto, un contratto che non si vedeva da anni. Avete avuto riconoscimento dell'articolo 54, che era una cosa penso che da vent'anni, con risorse notevolissime che sono state messe a disposizione dal Ministero dell'Economia dopo vari incontri. Guardate che nulla è scontato, noi per arrivare a quel risultato abbiamo dovuto lavorare moltissimo e dobbiamo anche ringraziare le forze politiche perché, come diceva Maurizio Gasparri e Emanuele Fiano, molto supporto è stato dato anche da loro. Io ricordo le telefonate tante volte a mezzanotte perché loro erano le sentinelle nostre nelle commissioni parlamentari e quindi quando c'era qualcosa che sembrava non andasse nel verso giusto, a qualunque ora, io avevo detto chiamatemi in qualunque momento perché noi dobbiamo, eri stati di parola sicuramente, perché noi abbiamo interesse a portare avanti un contratto buono ma perché? Guardate non è una questione di propaganda, chi fa di più, chi dà di più. Non è questo, è perché noi abbiamo avuto, come ho detto, momenti difficili e le forze di polizia hanno dato il massimo in questo periodo. E allora lo Stato, il Governo, doveva dare un segnale di vicinanza, di gratitudine per tutto quello che era stato fatto perché l'ordine democratico è stato mantenuto in momenti complicati dalle forze di polizia che hanno unito quello che era la loro professionalità, innegabile, come dice Felice, riconosciuto dappertutto, ma anche quel senso di umanità che non avete fatto mai mancare di vicinanza alla gente, quindi quando si dice la polizia è vicino ai cittadini. Questo ha significato che con tutte le difficoltà siete riusciti a mantenere quel giusto equilibrio del rispetto della legalità e nello stesso tempo del rispetto anche delle esigenze altrui. Io già la prossima settimana, credo che sia, insomma tra pochi giorni, ci incontreremo, faremo un incontro con le organizzazioni sindacali. Per quale motivo? Perché io credo che dobbiamo prepararci in tempo per la finanziaria, ieri ne ho già parlato anche al Ministero dell'Economia, perché dobbiamo cercare di chiudere alcune partite di cui abbiamo iniziato a parlare l'anno scorso. Però è importante dare ulteriori segnali, ulteriori segnali di comprensione anche di quelle che sono alcune criticità che sono state rappresentate. Certamente io credo che una delle disposizioni che noi dobbiamo prevedere, ne abbiamo parlato con il capo della polizia nei giorni scorsi, ho detto prepariamo un pacchetto normativo per quanto riguarda le assunzioni, perché secondo me è prioritario, in quanto quel deficit di quelle 10.000 unità che risale ai tempi della legge Madia, dove furono tagliate, ahimè, proprio le dotazioni organiche delle forze di polizia, poi alla fine tra il turnover, i pensionamenti, non è stato mai completamente recuperato. E allora noi, visto che poi ci chiedono tutti sicurezza, perché sicurezza e sviluppo, ecco quando io leggo sicurezza, innovazione, diritto e sviluppo, sono tutti i termini che sono collegati tra loro, perché certamente la sicurezza è la precondizione di uno sviluppo del territorio, però è necessario anche il riconoscimento di diritti, diritti di libertà altrui e diritti anche dei lavoratori. Allora se parliamo di diritti dei lavoratori, allora parliamo anche di sicurezza, della coesione sociale, sicurezza sui territori. Tutti ci chiedono più uomini. In un momento in cui c'è stato anche il taglio delle operazioni strade sicure, per esigenze anche di internazionali, sotto gli occhi di tutti, però certo noi dobbiamo recuperare anche quella diminuzione, diciamo, di percezione di sicurezza che i cittadini hanno, che tante volte era anche garantita dalla camionetta dell'esercito a presidio di alcuni sitri strategici. Allora noi dobbiamo predisporre un pacchetto che preveda l'assunzione, l'anno scorso sapete siamo riusciti a fare quel fondo, adesso stiamo dando attuazione e noi dobbiamo proseguire su quella linea sicura di trovare il supporto anche delle forze parlamentari, ne abbiamo visto di parte opposta, ma sia Maurizio che Emanuele Fiano hanno dato la massima disponibilità a fornire supporto. Quindi tra poco, quando noi avremo questo pacchetto, faremo aprire un tavolo di... io farò il tavolo di confronto con i sindacati. Poi faremo fare al sottosegretario con delega l'anno scorso, credo che quella è una linea positiva che si è vista con i gruppi parlamentari, in modo tale da avere poi la forza di portarlo avanti. Nel frattempo l'interlocuzione col Ministero dell'Economia è già partita, proprio in questi giorni. E poi un grazie va al mio amico Antonio Naddeo, che è vero, è un poco diciamo la mia vittima preferita, perché appena c'è un problema io coinvolgo Antonio, oltre che ovviamente parlare con il Ministro Brunetta, che anzi devo dire ci ha portato nell'arco di pochissimo a chiudere tre contatti per l'amministrazione. Noi abbiamo chiuso quello delle forze di polizia, abbiamo chiuso quello dei vigili del fuoco, abbiamo chiuso quelli dei prefettizi. Quindi un grande impegno da parte del Ministro Brunetta, ma tante volte per questioni più tecniche, che poi si arriva alla formulazione della norma che va nei sensi da noi sperati, diciamo c'è l'interlocuzione con Antonio, con cui abbiamo una consuetudine di lavoro e devo dire che tante volte noi l'abbiamo risolta proprio così, perché siamo arrivati poi a compimento di un percorso di interlocuzione, poi con le norme approvate dal Parlamento. Quindi io voglio dirvi questo, che noi come amministrazione dell'interno siamo un'amministrazione certamente al passo coi tempi, questo lo dico a Felice Romano, siamo al passo coi tempi, basta pensare anche alla direzione centrale della cyber che noi abbiamo portato avanti e io proprio in questi giorni parlando con il capo della polizia ho detto che è una direzione centrale che deve diventare un nostro fiore all'occhiello, perché noi abbiamo anche la responsabilità dei siti strategici nazionali e quindi è una responsabilità del Ministero dell'Interno, quindi quella direzione centrale se c'è da potenziare va potenziata nel modo più opportuno, perché sulla scena ci siamo noi e siamo noi che dobbiamo operare su questi ambiti. Per quanto riguarda ovviamente l'impegno per la prossima finanziaria, già ve l'ho detto, vi ho detto di questo incontro, ma soprattutto quando ci vedremo nella prossima settimana, io spero che da ognuno di voi vengano proposte, ma che non siano proposte settoriali, anche quelle ci stanno, ma quello che io ritengo che le organizzazioni sindacali che hanno avuto un ruolo importante dalla legge della 121 in poi, quindi questa polizia democratica è anche il confronto con le organizzazioni sindacali che da allora è stato portata avanti, però quello che dico che le organizzazioni sindacali va bene quelle che sono le istanze di parte settoriali, che poi vedremo di valutare laddove riteniamo che ci siano possibilità di portarle avanti e le porteremo, ma soprattutto di avere quella che è una visione, una visione strategica dell'amministrazione. Secondo me noi su quello dobbiamo operare perché i piccoli interventi normativi sono semplici da fare ma non ti fanno grande l'amministrazione. L'amministrazione per mia esperienza deve avere un respiro più ampio di quelle che sono le strategie, di quello che uno vuole fare, di quello che vuole essere la polizia, la polizia con le altre forze di polizia, di quello che vuole rappresentare in uno Stato democratico. Ecco io vedo che quello deve essere il vostro impegno e noi su questo porteremo avanti certamente perché è nostro interesse portare avanti un progetto che abbia un fiato lungo, che non si soffermi sulle cose che poi finita la finanziaria abbiamo chiuso il pacchetto. No, dobbiamo avere anche una visione che guardi all'amministrazione degli anni futuri perché noi faremo tante assunzioni, i corsi di formazione che si erano fermati per il Covid li stiamo portando avanti, quindi dobbiamo pensare anche alle nuove leve a dargli quella motivazione, la stessa motivazione che avete, che avete avuto voi, gli insegnamenti che voi avete avuto da quelli che vi hanno preceduto e quindi anche una grande responsabilità da parte vostra nei confronti dei più giovani perché quelli saranno la polizia del futuro e noi dobbiamo guardare. Quando si parla oggi, parliamo dell'esposizione universale del 2030 e io tante volte dico parliamo dal final 2030, però il 2030 è giusto perché bisogna organizzarlo prima, non dopo. Quando ieri parlavamo delle Olimpiadi 2026 ho detto già ci siamo perché se si tratta di prendere iniziative non possiamo essere in ritardo e arrivare all'ultimo momento perché poi le cose non si fanno come dovrebbero essere fatte e quindi una responsabilità vostra che siete qui, una responsabilità nostra come amministrazione, mia in questo momento che sono ministro dell'interno con un vantaggio di conoscere in maniera diciamo puntuale, approfondita all'amministrazione, sapendo quali sono le strategie che possiamo portare avanti ma spero di poterle portare avanti insieme a voi. Grazie ancora.